politica Marco Pannella festeggia i suoi 84 anni tra i terramani in piazza Martiri Sanità dopo la polemica e l'intervento di Rolleri ha riaperto radioterapia Cronaca ruba in canonica e aggredisce il parroco ma lo bloccano i fedeli Cassi Popolari un altro drammatico caso di un malato bloccato senza scensore La maratonina riempie il centro storico di atleti e bambini con il record di partecipanti Sport Calcio per il Teramo si avvicina l'ultima trasferta contro il Cosenza dell'ex Cappellacci Buonasera bentornati all'appuntamento con il nostro telegiornale Nel giorno del suo 84esimo compleanno Marco Pannella ha scelto la sua città Teramo per tornare a parlare della condizione di invivibilità dei detenuti delle carceri italiane e ha mostrato di non risentire per niente dell'intervento chirurgico che ha subito solo qualche giorno fa a Roma Non sono mancati i ricordi di quando da bambino giocava nei pressi della stazione con i piccoli coetanei Roma Ma siccome il servizio Una tempra unica A pochissimi giorni dall'intervento Marco Pannella è tornato a fare quello che fa da circa 70 anni battersi per i diritti civili ed ha scelto la sua città Teramo nel giorno del suo 84esimo compleanno per chiedere la fuoriuscita dell'Italia dalla illegalità come sostiene da sempre lui sulla giustizia e sulle carceri forte anche di un sostegno come quello di Papa Francesco che lo aveva chiamato al telefono durante la sua adegenza in ospedale a Roma Qual è il significato di questa presenza qui? La presenza è che non mollo Voglio dire che continuiamo a dare corpo ad una battaglia controcorrente perché la corrente che stiamo ostacolando già da 40 anni quella partitocratica è la rivincita di coloro che battemmo nel 45, 46, 47 è una sola cosa è essere d'accordo con i valori con i quali il Presidente della Repubblica oggi si è qualificato Però adesso c'è un rapporto, un connubio molto particolare, fondamentale e importante perché ha ricevuto la collaborazione o l'aiuto di Papa Francesco La forza anche di Papa Bergoglio è che è l'espressione della vincita progressiva della rivincita della spiritualità, delle religiosità La forza del valore La forza dello spirito e Teneri che sto Papa Bergoglio ricorda molto i cattolici liberali del risorgimento Marco buon compleanno Grazie ma buon compleanno a noi Tenimmi la sceglia Una cosa Io sono nato giù alla stazione Quando sono nato E per esempio Andavo a giocare Mamma Francese eccetera Appena potevo Nel primo sottopassaggio della ferrovia Ti immagini Tenevamo la ferrovia Era una cosa E il sottopassaggio con chi giocavo E mamma Francese eccetera E tutti in accordo Quei ragazzini rom E ho campato E ho cresciuto con loro Ma che cazzo cambia Andiamo avanti E bene questo bel sole Mi ricordo delle splendide battaglie In questa piazza Difendiamo questa terra La difendiamo nella sua ricchezza Grazie A buona Ciao grazie a voi Come stai? Ed uno speciale in merito proprio All'arrivo a Teramo Di Marco Panella Quest'oggi è dedicato Un nostro speciale Che appunto Chiuderà il nostro telegiornale Ma cambiamo argomento Numerose le polemiche Come avrete sentito Anche nel corso Della prima edizione Del nostro telegiornale Riguardo il servizio di radioterapia Del presidio ospedaliero Di Teramo E bene il direttore generale Dell'asle di Teramo Paolo Rolleri A proposito Ha detto Che l'ospedale di Teramo Avrà una nuova macchina Che affiancherà La vecchia Seguiamo questo servizio Guardi L'attrezzatura Si è guastata Qualche giorno fa Purtroppo ci sono stati Dei giorni di ferie in mezzo Ma abbiamo pressato La ditta La Siemens Affinché Intervenisse in tempi brevi Hanno lavorato Il 29 Il 30 E il pezzo di ricambio Che mancava Arrivato oggi verso le 10 Si ritiene Salvo imprevisti Che purtroppo Non sono in grado Di valutare in questo momento Che nel corso della mattinata Primo pomeriggio L'attrezzatura Dovrebbe entrare in funzione Questo non toglie Che la frequenza Con cui si verificano Questi guasti È certamente inaccettabile Ho chiesto una statistica Sono inaccettabili Per i pazienti Che devono sottoporse a terapia Ho chiesto La statistica Dei problemi Dell'ultimo anno E relativi tempi di soluzione Vedrò di convocare Nei prossimi giorni La Siemens Che ha il contratto Di manutenzione Finché dia una spiegazione Soprattutto garanzie Per il futuro Non escludo anche Di procedere con azioni Qualora si verifichino I presupposti Quindi andrebbe anche Verso la risoluzione Del contratto Vedremo come risolvere Ma sicuramente Questa cosa Non può passare Sotto silenzio E per quanto riguarda Invece il nuovo macchinario Che dovrebbe essere disponibile Dopo luglio Guardi Il nuovo macchinario Come ho avuto Già modo di dire In altre occasioni È un macchinario È lo stato dell'arte Della radioterapia Attualmente disponibile Sul mercato È un'attrezzatura Che ha delle potenzialità Molto importanti Da settimana prossima Dovrebbero partire Le prove Dalla taratura Venga presente Che queste macchine Hanno un periodo Di taratura Data la delicatezza Del tipo di Attività Che svolgono Molto lunga Quindi Si suppone Si presuppone Che entro Il 15 luglio Massimo Alla fine di luglio Questa seconda macchina Molto performante Sarà in funzione E in questo modo Avremo due Radioterapie Contemporaneamente funzionanti Nella speranza Di risolvere I problemi con Sime Intanto Il servizio di radioterapia Del presidio ospedaliero Di Teramo Ha ripreso a funzionare Oggi Fa sapere L'ASRE Sono stati Trattati circa Il 50% Dei pazienti Fino alle 21 Verranno trattati Anche gli altri Domani sarà effettuata Una seduta di recupero Per tutti i pazienti In trattamento Al momento Si legge nella nota Diffusa Dalla ASRE Possiamo affermare Che siamo rientrati Nella normalità La cronaca I carabinieri Della stazione Di Cilino Attanasio Hanno arrestato In collaborazione Con i colleghi Di Castelnuovo Vomano Uno zingaro Di 48 anni Di città Sant'Angelo L'uomo è accusato Di rapina impropria Nel tanto pomeriggio Dieri Dopo aver forzato Una finestra E' entrato Nella canonica Della chiesa Di Santa Maria La Nova Di Cilino Attanasio Riuscendo poi A rubare 1200 euro Dalla canonica Si è trasferito In sacrestia Dopo aver tentato Di scardinare La cassaforte Dove sono custoditi I beni della chiesa Ha provocato però Rumori che hanno attirato L'attenzione del prete Che è intervenuto Trovandosi di fronte Allo zingaro Che vistosi scoperto Lo ha strattonato E spinto Fino a farlo cadere a terra Il parroco Nel frattempo Aveva richiamato L'attenzione Alcuni fedeli Che si sono trovati Sulla via di fuga Del 48enne Ne hanno impedito Per l'appunto La fuga Bloccandolo Fino all'arrivo Dei carabinieri Che lo hanno arrestato L'uomo Aveva con sé La rifurtiva E anche alcuni attrezzi Per lo scasso Che sono stati Sequestrati In occasione Del primo maggio L'UGL Abruzzo Ha scelto Di ricordare I morti sul lavoro E le vittime Del terremoto Del 6 aprile 2009 All'Aquila Con una cerimonia Di fronte Alla casa Dello studente Sentiamo Per l'UGL La giornata Del primo maggio Deve rappresentare Anche il giorno In cui ricordare Chi ha perso La vita sul lavoro Lo ha dichiarato Il segretario generale Dell'UGL Giovanni Centrella Dalla casa Dello studente Dell'Aquila Dove Insieme ai vertici Del sindacato E ai rappresentanti Dei vari territori E di categoria Ieri ha reso omaggio Alle vittime Del terremoto E' impensabile Dice l'esponente sindacale Che ancora oggi C'è chi rischia la vita Andando a lavorare Con queste celebrazioni Rendiamo omaggio Anche a chi Non ha la possibilità Di essere qui Alle famiglie Che hanno perso I loro cari A causa di incidenti Spesso evitabili Il sindacato E le istituzioni Hanno una grande responsabilità Lavorare con impegno Per far sì Che simili tragedie Non avvengano più Bisogna fare il massimo Dice ancora l'esponente Dell'UGL Rendendo più capillari I percorsi di formazione E intensificando I controlli Per far sì Che le norme Vengano rispettate Per noi Essere all'Aquila Ha detto ancora L'esponente dell'UGL Ha un valore simbolico Perché quanto accaduto Quel drammatico 6 aprile Non possa più essere dimenticato Da quel giorno Siamo sempre rimasti Vicini a tutti i cittadini Che a causa Del terribile terremoto Persero tutto Anche la vita Questa città Può rappresentare Il simbolo Della rinascita Per questo Dobbiamo mantenere alta L'attenzione Sulle tante criticità In termini economici Ed occupazionali Che sta vivendo Il territorio L'Aquila rappresenta La speranza Dice ancora L'esponente Dell'UGL Quella di tornare A crescere La speranza Di tutto il nostro paese Ieri mattina Centrella Insieme alla delegazione UGL Ha partecipato Alla funzione religiosa Presso la chiesa Di San Giuseppe Artigiano Ufficiata Dall'arcivescovo Emerito Monsignor Giuseppe Molinari In ricordo Di tutti coloro Che hanno perso La vita sul lavoro Il rettore Dell'Università Degli Studi Di Teramo Luciano D'Amico In merito Alla presunta Indagine giudiziaria Sull'Ateneo Si dice Ben lieto Di spalancare Le porte Dell'Università A qualsiasi Attività Di controllo E sulla chiusura Delle sedi Parla di miglioramento Di servizi E più efficiente Utilizzo del personale Vediamo In merito Alle notizie Circa presunte Indagini Giudiziarie Sull'Ateneo Teramano Il rettore Luciano D'Amico In una nota Scrive Sono ben lieto Di spalancare Le porte Dell'Ateneo A qualsiasi Attività Di controllo Mirata All'accertamento Della piena Legittimità Degli atti Di contro Per quanto attiene Il processo Di razionalizzazione Delle sedi Dell'Ateneo Così come ritenuto Già nel programma Elettorale Pubblicato Nel dicembre 2012 Il rettore Conferma L'obiettivo Di concentrare In due sedi L'operatività Dell'Ateneo Nel comune Di Teramo Campus Di Costa E Sant'Agostino E Piano Daccio Entro la fine Di quest'anno Per approfondire L'argomento Per il 6 maggio Alle 16 Presso la sala Delle lauree Della facoltà Di scienze politiche Scienze della comunicazione Ha avvocato una conferenza stampa Nel corso della quale Il rettore Illustrerà Le valenze strategiche Del piano di riassetto Articolato Sulla chiusura Di 7 Delle 10 sedi Su cui operava L'università Al primo gennaio 2013 In quella sede Verranno evidenziati Le riduzioni di costo Il più efficiente Utilizzo del personale E il miglioramento Dei servizi Offerti agli studenti Ressi possibili Dalla razionalizzazione Logistica Così come Già verificatosi Con le chiusure Delle sedi Di Atri e Giulianova Sono già stati assunti Tutti i provvedimenti Necessari Dice il rettore Per assicurare Il regolare svolgimento Dell'attività didattica Semplificando Peraltro L'organizzazione Delle lezioni Della facoltà Di medicina veterinaria Che prima della chiusura Si svolgevano In quattro sedi E dopo la chiusura Si terranno Nelle sole Due sedi Di giurisprudenza Di giurisprudenza E pienodaccio Ancora Un grande successo Per la maratonina Pretuziana Di Teramo Ieri Nel centro storico Si sono ritrovati Oltre 2000 atleti Tra professionisti Amatori E bambini Vediamo La maratonina del record Ha animato Ieri Il centro storico Di Teramo La corsa All'escrizione Ha fatto registrare Il numero più alto Di partecipanti Com'era nella speranza Dei dirigenti Del gruppo podistico Amatori Teramo Tra mattina e pomeriggio Sono stati oltre 2100 a correre Per le vie della città Nel consueto appuntamento Del primo maggio Ad aprire La kermesse colorata E quest'anno Ancora più festante E rumorosa Sono stati gli adulti Della corsa non competitiva Di 5 chilometri Che ha ricevuto Il via dal sindaco Erano in 750 Sotto gli archi Presso statici Di Corso San Giorgio Come di consueto La risposta All'invito A correre Lanciato dai presidenti Del gruppo podistico Amatori E dell'atletica Gran Sasso È stata ampia e variegata I gruppi Soprattutto hanno animato La maratonina Quelli delle palestre Delle forze dell'ordine Della croce rossa Della protezione civile Dei vigili del fuoco Delle associazioni Delle frazioni E di tante altre realtà Di comunità locali Tutti insieme In un colpo d'occhio Bello da vedere Poi la vera festa Quella dei più piccoli Arrivati festosi Ed eccitati Dalla ribalta sportiva Erano 600 Genitori, bambini Nonni, parenti Hanno invaso Piazza Martiri E la scalinata Del Duomo Con gli animatori E la musica E i giochi Per la gara competitiva Tra i big Hanno vinto Cursi e la Mancini Un ascensore bloccato In una casa popolare A Villa Gesso di Teramo Costringe un signore A casa da tempo Vediamo Siamo a Villa Gesso Oggi per raccontare Una storia particolare Ne parliamo con Antonio Che è il papà Malato Che ha bisogno Di cure E che è purtroppo Attaccato ad una macchina Che lo aiuta A respirare Il problema è che Non funziona l'ascensore Insomma per dirla In poche parole Presso questa casa popolare Di Villa Gesso Antonio Sì Praticamente hanno Staccato l'ascensore Non funziona Siccome mio padre Soffre di pneumologia C'ha problemi respiratori Quindi Volendo Non può neanche usare L'ascensore Perché non può fare le scale Quindi l'hanno staccato Però sta acceso Questo è il problema Perché non funziona? Non lo so Perché siccome Siamo due persone Che pagano l'ascensore In questo palazzo Gli altri non lo pagano E ovviamente L'hanno staccato Però Non so se è a norma Perché ancora funziona Sto ancora in tensione Quindi se lo devi staccare O lo stacchi in tutto O non lo stacchi per niente Quello è il problema Antonio Cosa chiedete in sostanza? L'allacciamento Dell'ascensore Ma non tanto per qualcosa Perché per mio padre Perché se no Non può uscire È imprigionato a casa Quello è Che pure quando Vengono a portargli L'ossigeno Cioè Quelli prendono l'ascensore Cioè Non possono fare la scale Da quanti giorni Va avanti questa storia? Saranno due settimane Che sta staccato E per scendere In questi giorni Non è uscito mai Oppure Non è uscito mai Mio padre Mai Rimasto sempre a casa A chi vi rivolgete? A E alle persone competenti E alle autorità Quelli che Possono risolvere Questo problema La Ruzzore TSPA Ha comunicato Al comune di Roseto Degli Abruzzi Che nella giornata Di lunedì 5 maggio Effettuerà Un'importante Ed improcrastinabile Riparazione Sulla condotta Adutrice Pozzo Bon Pertanto Dalle 9 Alle 18 Circa Il servizio idrico Potrebbe essere interrotto Nei seguenti comuni Isola del Gran Sasso Per la sola frazione Di Corazzano Colledara Solo zona industriale E Villapetto Basciano Solo frazione Zampitto Castellalto Notaresco Solo capoluogo Morro d'Oro Solo capoluogo Roseto Solo colonia paese Musciano Sant'Angelo Tortoreto Per la sola parte alta Sant'Egidio Alla vibrata Ancarano Torano Nuovo Nereto Corropoli Contruguerra Colonnella A Montorio Le suore passioniste Festeggiano i 50 anni Di presenza Nella comunità E l'8 e il 9 maggio La teca con le reliquie Del santo San Gabriele Sarà a Montorio Vediamo Montorio si prepara A festeggiare Il 50esimo anniversario Di presenza Delle suore passioniste Nella comunità Con l'arrivo Della statua Di San Gabriele Che sosterà In paese Per due giorni Dall'8 al 9 maggio Prossimi Giorni in cui Verranno celebrati 60 anni di consacrazione Di suor Costantina Azzolin E i 25 anni di consacrazione Di suora Assunta Balducci L'evento Sarà propizio Per solennizzare La recente Ristrutturazione Della casa Delle suore Di Largo Rosciano Presente nel cuore Del paese Da ben 50 anni L'edificio Chiuso dal 2009 È stato restaurato Per opera Della casa provinciale Delle suore passioniste Di San Paolo Della Croce Un restauro importante Quello della casa Di Largo Rosciano Che ha visto Il rifacimento Del tetto La sostituzione Degli infissi Interni ed esterni E l'ammodernamento Della disposizione Delle stanze interne Queste torneranno Ad ospitare A partire dal prossimo Settembre A Pianterreno E al primo piano La scuola Dell'infanzia parificata Mentre il secondo piano Interamente ristrutturato Tornerà ad ospitare La comunità Delle suore Passioniste E intanto La comunità parrocchiale Si prepara Alla venuta Del santo dei giovani Giovedì 8 maggio Alle 17 In Largo Rosciano È previsto L'arrivo di San Gabriele Con canti E preghiere Fino alla casa Delle suore Dove si terrà Una danza In onore Di San Gabriele Il rosario È un momento Libero di devozione Precederanno La santa messa Prevista per le 19 A cui seguirà La benedizione Della casa Alle 21 e 30 Concerto musicale Con padre Aurelio E le anime libere A partire dalle 24 Veglia notturna Con San Gabriele Venerdì 9 maggio Si aprirà Con le Lodi Dalle 8 Con San Gabriele Che precederanno La processione Verso la parrocchia In attesa Della santa messa Prevista per le 9 Alla quale prenderanno parte Anche bambini e ragazzi Nel pomeriggio Alle 15 Via Crucis Con San Gabriele Con la santa messa Delle 19 Presieduta Dal vescovo di Teramo Monsignor Michele Seccia San Gabriele Verrà portato in processione Verso la chiesa Dei Cappuccini Dove l'allora Giovane passionista In viaggio per isola Sostò per un giorno Nel lontano luglio Del 1856 Di qui la statua Del santo Ripartirà Verso il santuario E adesso La pagina Dedicata alla politica Golleriano Lanciotti Candidato Per il partito Democratico Alle regionali Si esprime Su economia e lavoro Mettendo in evidenza Che l'Abruzzo Detiene la maglia nera Tanto che Sarebbero 27.000 Disoccupati in più Dal 2008 Noto il 2013 Negli ultimi 5 anni Si legge nella nota Sono mancate risposte Le imprese Alle famiglie E lavoratori E da oggi L'Abruzzo Detiene un triste primato Che la vede Fanalino di coda Sia sull'export Che sull'occupazione Le ore di cassa integrazione Sono cresciute Vertiginosamente Il comitato D'appoggio Alla candidatura Di Davide Rosci Alle elezioni regionali In evidenza Come Davide Si trovi ancora In stato di arresto Nonostante ciò Ha deciso Di candidarsi Alle prossime elezioni Regionali In attesa Che gli giungano I permessi Per poter svolgere Normalmente La sua campagna elettorale Pertanto E' stato deciso Dal comitato Di costituire Per l'appunto Un comitato D'appoggio Alla sua candidatura E lo stesso comitato Verrà presentato Domani Sabato 3 maggio Presso la sede Del partito Di rifondazione comunista In via della cittadella Alle 17.30 A Teramo Naturalmente Proprio per La costituzione Del comitato Domani Sabato 3 maggio Presenzerà La cerimonia Di consegna Delle borse di studio Presso la sede Dell'università Degli studi Di Teramo Il sindaco Di Teramo Maurizio Brucchi Mentre Domenica Alle 19 Brucchi Incontrerà Residenti Della frazione Di Rocciano Presso L'ex edificio Scolastico Alle 20 Incontrerà Residenti Di Cavuccio Sempre Presso L'ex edificio Scolastico E ancora Per quanto riguarda Gli appuntamenti Elettorali Si ricorda Che domani Sabato 3 maggio Dalle 20 Presso l'hotel Vomano In vele risorgimento A Montorio Si terrà la presentazione ufficiale Alla cittadinanza Della lista civica Montorio Nel cuore Che parteciperà Le prossime elezioni Comunali Del 25 maggio A sostegno Del candidato sindaco Aldo Coccagna E ancora Per quanto riguarda La politica Il Movimento 5 Stelle Ricorda di avere Tra le sue priorità Il miglioramento Della qualità Della vita Degli studenti universitari Non solo attraverso Il posizionamento Di pensiline intelligenti Ma anche istituendo Collegamenti Tra università E centro della città Nelle ore notturne E quanto appunto Sottolinea Fabio Berardini Candidato sindaco Per il Movimento 5 Stelle Di Teramo Che sottolinea Il sindaco Brucchi Non conosce La sua città Tanto che nell'incontro Dell'università Del 29 aprile scorso L'ex sindaco Ha asserito Che a Colle Parco Ci sono le pensiline Per gli studenti Ma evidentemente Ha sbagliato città Domani 3 maggio Alle 16 Presso il Deor Del Caffè Grand Italia A Teramo Il candidato sindaco Gianluca Pomante Presenterà Agli organi di stampa I 32 componenti Della lista civica Finalmente Pomante Domenica 4 maggio Alle 10.30 Nel Cineteatro Comunale Di Teramo La candidata sindaco A Teramo Manola Di Pasquale Aprirà ufficialmente La sua campagna elettorale Presentando alla cittadinanza I candidati delle liste Teramo Cambia E del Partito Democratico Saranno presenti Giovanni Legnini E Luciano D'Alfonso Silvi potrebbe Potrebbe presto essere Uno dei primi comuni D'Abruzzo A dotarsi di uno Statuto Dei diritti Degli animali E' stato infatti Raggiunto Nei giorni scorsi In vista delle amministrative Del 25 maggio L'accordo elettorale Tra il movimento civico Silvi Bellissima E il movimento Quattro Zampe Che si batte Per la protezione Degli animali In caso di vittoria Di Silvi Bellissima Con il candidato sindaco Michele Cassone Sostenuto anche Dalla lista civica Insieme per Silvi Il comune si doterà Dello speciale statuto Il movimento Cinque stelle di Pineto Presenta la sua lista Domani sabato Tre maggio Alle ore diciotto Presso il piazzale Della stazione Presenterà dunque La cittadinanza La lista Che appoggia La candidatura Sindaco di Santino Ferretti Il movimento Pineto Partecipativa Presenta la sua lista civica Con tre ore di riflessione E musica Domani sabato Tre maggio Dalle diciassette Alle ore vente A Pineto In via Milano Presso l'area D'antistante Il comune Erano presentati 16 candidati Della lista Che correrà In appoggio Al candidato sindaco Marta Illuminati Si presenteranno Dunque agli elettori In vista delle elezioni Del 25 maggio E torna questa sera In diretta Alle 20.45 Su Teleponte La nostra trasmissione App Approfondimento Condotta dal nostro direttore Roberto Almonti Ospiti della serata A Teramo E nello studio Di Pescara Dove ci sarà A mano Il pantaloni Diversi candidati Appunto alle elezioni Regionali E adesso è arrivato il momento Delle previsioni meteo Per la giornata di domani In Abruzzo Al mattino nuvoloso Con deboli piogge Neve oltre i 1900 metri Nel pomeriggio Nuvoloso Con deboli piogge Tra sera e notte Coperto Con piovigine Quota neve Sui 1900 metri Temperature in lieve Diminuzione Massime E comprese Tra 13 e 16 gradi Nelle conche aquilane Marsicane Tra 16 e 19 gradi Sulle pianure adriatiche Venti deboli orientali Mare quasi calmo In provincia di Teramo Tempo molto instabile Incerto per l'intero arco Della giornata Su tutto il territorio provinciale Cielo da nuvoloso A molto nuvoloso Con possibilità Di rovesci sparsi Anche di moderata intensità Sui settori interni E sulle aree Al confine con le marche Neve in montagna Oltre i 1800 metri Temperature in diminuzione Massime comprese Tra 13 e 16 gradi Nelle pianure dell'entroterra Tra 14 e 17 gradi Sulle coste Venti deboli O moderati orientali Mare poco mosso Per il Teramo Si avvicina L'ultima fatica stagionale La trasferta In casa del Cosenza Di Roberto Cappellacci Il tecnico ex di turno Non potrà però Sedere in panchina Perché deve scontare Il terzo e ultimo turno Di squalifica Sulla sponda bianco-rossa Non sono al meglio Della condizione Narduzzo Per un fastidio al polpaccio E Gaeta Per un problema Al flessore In dubbio Anche Serraiocco Alle prese con l'influenza Sarà invece Tre protagonisti Dell'incontro Alessandro Di Paolo Antonio Lo abbiamo ascoltato Di Paolo Antonio Arrivata l'ultima fatica Della stagione Domenica si va a Cosenza Contro il tuo ex Allenatore Cappellacci Ma si Pensiamo adesso L'ultima partita Anche se l'ultima Cappellacci L'ultima partita Non c'è Voco interesse Perché noi comunque Dobbiamo finire Il campionato in bellezza E quindi Speriamo di Almeno chiudere in bellezza E andare a vincere Domenica a Cosenza L'anno scorso Eri Panchinaro Quest'anno invece Ti presenti Nell'appuntamento Contro il tuo ex allenatore Da titolare inamovibile Del Teramo Con 32 presenze E 5 gol Quali sono le tue sensazioni? Vabbè Gli anni Comunque Vanno scorrendo Quindi l'anno scorso Magari Ho trovato poco spazio E Non mi sono ritagliato Un ruolo importante Magari L'ho fatto quest'anno Ma Del mister Che comunque Mi ha dato Tutte queste opportunità E io comunque Spero di averle ricambiate Che comunque Alla fine L'obiettivo era Quello di andare Nella coprova unica E ci siamo riusciti Poi Ci dispiace comunque Per questa ultima Battuta d'arresto Di domenica Perché comunque So che il mister Comunque ci teneva A vincere il campionato Ma come tutti Del resto Sia la città Sia il presidente Però Purtroppo è andata male Adesso Comunque Non è ancora finita Bisogna sperare In tanti risultati Però comunque Noi non guardiamo Le altre partite Guardiamo la nostra Di domenica Che è una battaglia Vogliamo un attimo Con la fantasia Il Teramo Espugna Cosenza Conclude il primo posto In classifica Con un gol di Di Paolo Antonio Ma hai detto bene Volevamo con la fantasia Sarebbe bellissimo Anche perché Per me Vincere un campionato Qui a Teramo Sarebbe una cosa bellissima Spero di riuscirci Ma Sicuramente Ci sono anche Altre squadre Che puntano a farlo La Casertana Sicuramente Avvantaggiata Perché ha tre punti Davanti a tutte le altre Noi però comunque Come ripeto Dobbiamo pensare a noi stessi E andare a fare Una partita Molto Cioè per chiudere in bellezza L'annata a Cosenza Che è comunque La cosa più importante Voi comunque Credete ancora Nel primo posto? Crediamo Adesso Come ti ripeto Si è fatta dura Però Alla fine non costa nulla Poi bisogna andare A fare la partita A Cosenza Vincere E sperare Negli altri risultati Poi comunque Se ciò non dovesse essere Ci rimane comunque La soddisfazione Di essere andato in Lega Pro Il futuro? Il futuro Questo è l'unica cosa Che non so Per il momento So che sto bene a Teramo Voglio continuare a Teramo E comunque Se ci dovessero essere Che ne so Delle occasioni Importanti Poi Alla società Vedere Io comunque Sono di Teramo E comunque Mi fa piacere Rimanere a Teramo Per continuare L'Egrupo unica Le sirene della Serie B Quindi non le ascolti? Ma non so Se ci siano sirene Anche perché Non me lo vengono a dire Sicuramente a me Dicono Di stare tranquilli Di continuare questo campionato Che comunque Ancora non è finito Quindi La prima cosa È chiudere in bellezza Questo campionato a Teramo Poi quello che verrà Verrà dai E adesso il basket La serie appositiva Della Globo Giulianova Si ferma a Monte Granaro Dopo le vittorie contro Porto Sant'Elpidio E Palestrina Monte Granaro È arrivata La prima sconfitta Della fase Ad orologio Per la truppa di Francani Il 78-70 finale Regala ai padroni di casa La certezza Della partecipazione E playoff Con due gare di anticipo Mentre la Globo Giulianova Dovrà ancora aspettare L'esito Dell'ultima gara Del prossimo Sabato 3 maggio In DNC Impresa Della Globo Allianz Campli Che a Isernia Sotto di 23 punti A metà del terzo quarto Ha rimontato E vinto di un punto 68-69 Il punteggio finale In favore dei Farnesi Decisiva una bomba Di Pietrucci In Extremis Con questa vittoria Il Campli Ha pareggiato la serie Che ora è sull'1-1 Domenica Ci sarà gara 3 Chi vince Passerà il turno E affronterà Il Mola di Bari In Serie C Regionale La pentateramo Ha perso Gara 2 Contro La Magica Chieti Con il risultato Di 56-62 Si va a gara 3 In programma Domani A Chieti Per quanto riguarda La pallamano La tecnica Eletronica Teramo Si è giudicata L'organizzazione Della fase finale Dei campionati Under 20 Di pallamano Maschile Che si giocheranno Dal 29 maggio Al primo giugno Al pala Papa Giovanni Paolo Secondo di Pescara E al pala Santa Filomena Di Chieti Sempre nella pallamano Nei giorni scorsi Si è riunito Il Consiglio federale In campo maschile Non sono state introdotte Novità nella formula Del campionato Nella prossima stagione Quindi il torneo Avrà lo stesso format Di quello attuale In campo femminile La Serie A2 E la Serie B Andranno a costituire Una sola categoria Che sarà chiamata Seconda divisione La Serie A invece Si chiamerà Prima divisione E sarà costituita Da 12 squadre Quindi ci saranno 4 squadre in più Rispetto al format Di quest'anno Ed è tutto Per questa edizione Del nostro telegiornale Ma la concluderemo Con uno speciale Che abbiamo voluto Regalare al leader Dei radicali Marco Pannella Che oggi a Teramo Ha festeggiato Il suo compleanno Un approfondimento Dunque del nostro telegiornale E subito dopo Non lasciate Teleponte Perché alle 20.45 Torna App Approfondimento Condotta dal nostro direttore Roberto Almonti In cui naturalmente Ci sarà ampio spazio Per i candidati Alle elezioni regionali Arrivederci E buona serata Grazie a tutti